Per terapia solo singola abbiamo fatto un flow chart, un diagramma di flusso e spesso ce l'ho in mente, devo fare questo, questo, però non sono così ossessio in realtà, anche prendendo spunto da Federico mi sono un po' molto, molto, molto deossessivizzato, perché se rimani in quello ti perdi il paziente. Però c'è una cosa sui tempi, Milton Erickson era famoso perché faceva a volte anche di ipnosi da 4 ore, da 16 ore, nel 2019 è impossibile, perché non campi da un certo punto di vista, ma poi anche magari il ritmo con cui viviamo le cose. Un tuo commento su questo, una volta chiesti questa cosa a un collega ipnoterapeuta, lui mi disse, sì, questa è la questione del, ma Erickson, era ericksoniano? Eh sì. Io in verità la metto con Erickson, ericksoniano, sono gli ericksoniani che non sono ericksoniani. Eh sì. Ok? Allora io credo che, innanzitutto Erickson viveva in un periodo storico in cui... C'era un cavolo da fare. Bravissimo. In Texas poi. In Texas Erickson veniva pagato che lui facesse le pulizie o che stesse 4 ore col paziente, veniva allo stesso, e quelle sperimentazioni di 4 ore le faceva casualmente in ospedale, mica a casa sua. E quando le faceva a casa sua, lui andava fuori a fare giardinaggio, mentre il tipo era dentro in trans. Cioè, quindi lui non perdeva mai tempo, quindi... Genio! Perché o lo faceva lui giardinaggio o il paziente faceva giardinaggio per lui. Ci abbiamo capito un... Esatto. Sempre casa sporca. E poi credo che queste storie portino i nostri colleghi a credere che la transipnotica sia uno stato magico in cui io ti metto, tu diventi così aperto, che ci butto dentro quello che voglio, chiudo e me ne vado a casa. Ma non è così. Cioè, se tu riesci a impacchettare, come direbbe Zai Goji, che lui dice che creare il pacchetto, di impacchettare per bene il tuo messaggio, non hai bisogno di 40 minuti di transipnotica per farlo arrivare. Hai bisogno solo che la persona sia particolarmente predisposta ad accogliere quel tipo di messaggio. E il lavoro di Ericsson era tutto intorno a questo. Era la sua disseminazione, era tutto orientato a far sì che il paziente andasse a casa e pensasse a quella cosa lì, fondamentalmente. Che in alcuni casi, per entrare in collegamento con la parte strategica, era per fargli fare delle cose, oppure per fargli pensare delle cose. E secondo me, noi quando pensiamo all'ipnosi invece pensiamo sempre a questa cosa qua. Io ho bisogno di tre ore come Ericsson, così ti mando in uno stato magico in cui ti dico quello che voglio. Ma questo è illusorio. Mi piace tantissimo la predisporzione, devo predisporre la persona. Come lavori, cosa ne pensi e come lavori per aprire un mondo? Con la resistenza, che ne pensi del concetto di resistenza e come ci lavori? Allora, onestamente io non la vedo mai questo, forse per formazione, ma non la vedo mai come… io la vedo come al massimo, la vedo come non mi è simpatico il paziente. Quindi come una cosa tua? Come una roba mia, non è l'impaziente che non cambia, ma mi sta sulle palle e non riesco a… e questo perché sono fatto così non è una tecnica. Io lo sento e glielo dico delle volte. Dico mi sembra che stiamo litigando. Ogni tanto dico mi sembra che stiamo litigando io e te. E delle volte colgo l'apertore e dico è vero, anche io ho questa sensazione di stare litigando e da quel momento in poi se quella era una resistenza si abbassa un po' o comunque delle volte svanisce. Ma io non vedo mai la resistenza, vedo sempre ho preparato male io qualcosa o lui non è pronto per questa cosa qui, ma non perché c'è dentro una rimozione, un evitamento eccetera. Perché tutti rimuoviamo, tutti evitiamo, tutti quando arriviamo su quella cosa lì cerchiamo di svincolare, di cambiare l'argomento e quello che arriva e dice guarda io ascolto tutti i tuoi podcast, ti seguo da anni, adesso dimmi quello che vuoi che guarisco, non guarisce così facilmente. Cioè l'effetto autorità che tutti cercano per me non funziona così bene, almeno nella mia esperienza non funziona così bene. La mia visione della resistenza è che abbia totalmente il momento in cui ho letto un articolo di The Shazer che peraltro si rifà esplicitamente, lo dice a Erickson, Erickson diceva che la resistenza è un modo di porsi, di collaborare, diciamo, della persona, non so se usava proprio questo termine. The Shazer nell'articolo La morte della resistenza, che è un casino, complicatissimo, però molto interessante, usa la parola collaborazione. Cioè se ti vedi un paziente resistente che non ti fa i compiti, che ti dice non lo so, che fa boh, lui ti sta dicendo, almeno io così me lo figuro, Genna io così non posso collaborare. Tu mi dici fai questo compito, non te lo faccio, io così non posso collaborare. Tu mi dici una cosa, ti dico boh non lo so, ti sto dicendo io così non posso collaborare. E' fantastico perché io leggo proprio come se ascoltassi la persona che mi dice questo e quindi se me lo dicesse esplicitamente, io direi ok andiamo da un'altra parte. Ed effettivamente Mario non gli dico ok vabbè andiamo da un'altra parte perché sennò sarei seguendo il mio dialogo interno e la persona mi prenderebbe per pazzo, però vado da un'altra parte, lascio perdere, ok andiamo di qua. Anche se poi, questo è poi un discorso più ampio perché per me i costrutti devono stare al tuo servizio, quindi a volte il costrutto di resistenza mi è utile, lo utilizzo perché magari mi pongo sempre nella posizione ericksoniana del prescrivere la resistenza perché in quel momento mi è utile con quella persona, mi torna utile di nuovo il costrutto di resistenza. Però non affrontiamo questo anche se è interessantissimo perché ti voglio chiedere invece che ci fai con la meditazione in terapia, che fai, come la usi, come funziona? La uso io, non la faccio io, non la faccio fare ai pazienti, la faccio fare poco ai pazienti la meditazione, la faccio fare solo a quelli che stanno particolarmente bene perché per me non è uno strumento terapeutico, non è uno strumento clinico la meditazione, o meglio lo è ma solo alcuni pezzi della meditazione, in particolare per essere proprio espliciti la parte dell'act che è un tipo di psicoterapia che quindi non è tanto meditativa ma è tanto di insegnare al paziente a dirgli sto pensando a questo invece di dire sono in balia di questo pensiero per essere un po' didascalici da questo punto di vista. Quindi per me la meditazione è restare lì con il paziente e restare lì insieme al paziente e non sfuggire via con la testa, non andare a pensare ad altro e quando vado a pensare ad altro tornare sempre lì, non in modo ossessivo perché questo è il segreto per meditare è che quando io mi accorgo che non sono più lì sul pezzo, torno gentilmente nel presente, ti dici qualcosa? No, 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 non mi dico niente. Tenere di conto e ci torni. E ci torno e gentilmente intendo che sono molto morbido nel tornare, non è che penso cavolo cosa sto facendo, non sto più qua in terapia, devo tornare qua perché questa cosa qua in realtà fa nascere una spirale di giudizi che mi porta ancora più lontano dal paziente. Poi cerco di restare lì e delle volte magari glielo dico. Mi sono perso. Mi sono perso e io ho un'altra strategia per ovviare questa cosa, mi sposto nella stanza, cioè inizio la terapia, io ho fatto per anni la terapia, allora io ho iniziato a fare il terapeuta dentro una palestra. Quindi ero dentro una palestra, quindi c'è la stessa idioline di plastica uno davanti all'altro, andava benissimo. Poi sono finito in uno studio più figo con la scrivania, andava un po' peggio, quindi ogni tanto esco fuori dalla scrivania, mi metto davanti al paziente. Adesso inizio dalla scrivania, siamo davanti, c'è la scrivania, se vedo che continuo a perdermi, gli dico scusi posso, alzo la sedia, che tra l'altro pesa 200 kg come quella lì, alzo la sedia, l'appoggio e mi siedo davanti a lui più o meno così. Senza scrivania? Senza scrivania, senza dirgli perché, per come, eccetera. Poi in realtà quando qualcuno mi dice perché, gli dico perché poi ti invito a sederti sulla POANG, che è la sedia dell'IKEA, facciamo la pubblicità all'IKEA, dove faccio la transipnotica, tra virgolette. Carino, che bellissimo, bello, bello come usi lo spazio al servizio del tuo modo di fare terapia. Grazie. 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 Grazie a tutti.